Allora ciao ragazzi sono ancora di nuovo con mio padre che sta venuto a trovarti per vedere di fare qualcosa di simpatico. E facciamo di nuovo quell'effetto esattamente mio accanto che sta facendo parlare anche in America. Addirittura siamo internazionali. Esatto perché pensano che tu addirittura io e te siamo d'accordo. Siamo d'accordo. No non siamo d'accordo. Perché ti sono venuto a trovare. No perché siamo d'accordo. Ma comunque mescolate le carte. E allora come le devo mescolare? Cosa? Normali. Ecco va bene. Eccoli qua. Stiamo un po' giocando scherzando. Vabbè eccoli qua. Sono normalissimi. Ecco qua sì. Mescolate ancora adesso. Ancora? Sì sì sì. Ecco. Quando devo mescolare? Tanto. Ci sei? Fatto? Sì fatto. Ok. Dimmi una carta da gioco che vuoi tu. Cinque di cuori. Cinque di cuori. Sì oggi sono per l'amore. Sicuro? Sì oggi sono per l'amore. Ok. Cinque di cuori. Quindi è la carta che tu hai scelto giusto? Cinque di cuori. Ora mi devi dare. Oggi sono innamorato. Ok. Ora mi devi dare un numero di questo gioco. Tra uno e cinquantadue. Eh uno e cinquantadue. Ora vediamo un po' uno e cinquantadue. Ti dico dieci dai. Dieci. Eh. Dieci. Cinque di cuori dieci. Eh ma hai detto di uno e cinquantadue. Dieci è un numero che sta prima di cinquantadue. Gira nove carte. Nove carte. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Questa è la nonna. KDP. Questa è la decima carta. E questa è la decima carta. No no no. Fai vedere. Non ci posso credere. Ma stiamo scherzando. Cinque di cuori. Cinque. Cioè è una roba incredibile. Cioè qua siamo in mezzo agli UFO. Agli UFO. Datemi una spiegazione. Americani e italiani. Ciao. Ciao. Grazie.